La principessa del galle si mantiene attiva, ma ciò non vuol dire che il peggio sia passato. Kate si sta sottoponendo a una serie di cure per via di un cancro che le è stato diagnosticato in seguito a un intervento chirurgico a cui si è sottoposta lo scorso gennaio. In un video registrato a maggio, quando si trovava a Londra per il decennale degli Invictus Games, Harry ha parlato del modo in cui ha affrontato il lutto. Con la Kairtis Katisli Telesolder che ha l'obiettivo di supportare i figli dei militari britannici morti al fronte, ha ribadito che ai bambini si evita di parlare della morte, ma che invece è importante che esprimano le loro emozioni, e non si tengano tutto dentro. È scoppiato in lacrime ricordando la mamma, quando ha dovuto affrontare il lutto soffrendo anche la depressione prima di imparare a parlare con uno psicoterapeuta per lavorare su quella importante perdita. È molto facile convincersi che la persona che hai perso ti voglia triste per dimostrarle che davvero ti manca. Ma poi si capisce che no, che quella persona ti vuole felice. Prosegue il duca di Sussex. Le sue parole hanno poi ricondotto i tabloi dalla ciclica nostalgia di casa di Harry, e al fatto che abbia visto Kate, altro up in the color, e che vorrebbe tanto riabbracciarla. Con la cognata aveva un bel rapporto prima del matrimonio con Meghan. Ma poi le cose sono man mano peggiorate. Grazie. 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 Grazie.